Il 5 marzo del 1918 nasce nonna Graziella, infatti ieri ha festeggiato 100 anni circondata dall'affetto dei suoi familiari, presenti i figli Matteo, Giuseppe e Salvatore e i nove nipoti e i 13 pronipoti. Nonna Graziella sposata con Emanuele Romico, panificatore per tradizione, sin dal 1899. Emanuele Romico fece apprezzare il pan di Spagna ai siracusani che ancora oggi Emanuele lo diffonde in tutta la Sicilia. Nonna Graziella ha lavorato da sempre a fianco dell'amato marito Emanuele Romico. Nonna Graziella, grande mamma e lavoratrice instancabile, ha ricevuto infatti da parte di tutti i panificatori siracusani i migliori auguri. Graziella, grande mamma e lavoratrice.